Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Scusate se ieri non l'ho registrato, ma in questi giorni non è che sto granché, quindi nulla di che. Vabbè, ho una buona notizia, però mamma sta bene, siamo riusciti a, mamma è riuscita sia a parlarle che a comunicare con lei, anche in zio, ieri. E sta bene, quindi è già qualcosa. A parte quello nulla, e ieri vi racconto, praticamente volevamo fare un giro in centro, ma si è messo a piovere, e quindi mi è venuto a prendere ancora prima delle sei. Ve la faccio breve, sono rientrata a casa, che erano le quattro e un quarto, no, boh, saranno state le quattro e quattro e mezzo, più o meno. E quindi ve la faccio breve, non sono riuscita né a stare con Ale, né a fare niente, praticamente mi sono sentita inutile ieri. Non solo perché pioveva in realtà, perché poi se no sarei rimasta là, perché poi dopo quando sono tornata a casa è spuntato il sole, che miracolo, eh. Poi niente di che, ieri un disagio vivente, praticamente. Per oggi è tutto, lasciate like, iscrivetevi al canale se volete unirvi all'AsaFamily, e noi ci vediamo domani con un uomoissimo vlog. Ciao! Ciao!